Bene, buonasera, siamo qui insieme per questo incontro, per questo pomeriggio, la scuola per la società l'abbiamo intitolato. Io vado subito con i ringraziamenti intanto alla mia redazione, alla redazione della rivista insegnare del CIDI che è sempre presente e attiva nella nostra vita, poi chiaramente ringrazio gli insegnanti in servizio che hanno accettato di condurre con noi questa chiacchierata, questo è un momento un po' difficile, maggio è un momento di grande vitalità, sia per il CIDI sia per la scuola, come dire, per il resto della scuola che siamo a conclusione d'anno per cui insomma le incombenze sono tante, quindi loro hanno deciso di dedicare a noi lo studio, la preparazione di questo pomeriggio e poi vi presenterò ad uno ad uno. Ringrazio ovviamente tantissimo la nostra Presidente nazionale Valentina Chimnici che si dedica con tanta attenzione a tutte le iniziative nelle quali si possa discutere, dibattere, consolidare il pensiero e l'azione del CIDI. Ringrazio infine la nostra ospite Giorgia Serughetti, Milano Bicocca, lei è autrice anche di tanti libri, ma oggi è qui con noi perché discuteremo con lei del suo saggio La società esiste, la terza, che è un'opera interessante da molti punti di vista e successivamente approfondiremo chiaramente alcuni aspetti in particolare con lei. Io brevemente vi terrò molto poco perché il libro è densissimo, il libro sviluppa un ragionamento a partire dall'assunto celebre di Margaret Thatcher del 1987, la premier inglese in una intervista ha dichiarato che la società non esiste. Ora, il titolo del saggio di Giorgia, la società esiste invece, nasce dal desiderio di impiantare un nuovo modello di pensiero e una nuova narrazione. La Thatcher, invece, sostenuta, l'escursus storico dell'origine e lo sviluppo di queste posizioni nel libro sono perfettamente chiarite, nasce dal desiderio di diffondere e rendere unico un nuovo modello di Stato, un nuovo modello di comunità basato sulla sovranità del libero mercato che veniva raccontato come il sistema migliore, come il migliore dei mondi possibili. In questo sistema lo Stato non deve avere nessun ruolo perché anzi l'entità, la funzione dello Stato rischia di essere un ostacolo al mercato stesso, ritenuto capace di organizzarsi in autonomia, di sviluppare quelle dinamiche che garantiscono, secondo questa teoria liberista, neoliberista, garantiscono le persone, garantiscono l'economia, lo sviluppo economico, garantiscono i rapporti e gli equilibri sia all'interno degli Stati ma anche tra Stati appunto. Oggi viviamo in un tempo in cui questa impostazione non solo si è rivelata fallimentare ma si è rivelata pericolosa, cioè profondamente dannosa per la società e per il mondo contemporaneo perché ha causato due tanti danni, il principale dei quali è la perdita del senso del limite, si è perso il senso del limite del terrestre umano sul terrestre non umano potremmo dire intanto e poi ha generato una perdita di credibilità che diciamo del ruolo che la cosa pubblica può avere non tanto rispetto alla cosa privata ma rispetto alla persona, cioè a tutto ciò che attiene alla persona nello sviluppo, nel suo pieno sviluppo. Quando noi nel Cili sentiamo parlare di persone, di pieno sviluppo della persona immediatamente richiamiamo l'articolo 3 della nostra Costituzione nel quale crediamo. E questa è la dimensione che ha svelato, diciamo così, il fallimento di questo predominio del libero mercato nelle società. Ora, nel libro di Serughetti l'inesistenza della società è smentita attraverso l'analisi delle manifestazioni più forti della società stessa che invece esiste e resiste. E quali sono queste manifestazioni? Quelle aggregazioni di persone che si riuniscono, si ritrovano, pensano e agiscono per affermare quei diritti essenziali che fanno di una persona un elemento vivo invece di una società. Noi quindi ci poniamo oggi un obiettivo forse ambizioso, però sfidante diremmo, cioè dimostrare che anche la scuola democratica che tiene insieme il sapere, l'integrità della persona con le manifestazioni e le espressioni sue specifiche e la collettività come ambiente di sviluppo può essere a buon titolo parte di questa contro-argomentazione. Quindi, come dire, noi come scuola democratica vogliamo far parte di coloro che invece aiutano la società non solo ad esistere, ma a generarsi, a crearsi. Noi, diciamo, crediamo ovviamente, noi siamo centro iniziativa democratica degli insegnanti e per noi quindi la scuola è centrata sulla condivisione di un bene e non sulla sua contesa. Questo bene che noi condividiamo è la conoscenza. E per noi la conoscenza è un bene da distribuire, far crescere e non un bene da contendersi, ovviamente, come una risorsa di cui c'è una quantità limitata. È centrata la scuola democratica su una cellula collettiva che è la classe, che è luogo, tempo e spazio di frequentazione quotidiana di diversità. E la scuola democratica ha come obiettivo la costruzione di una rappresentazione. La persona che va a scuola e poi all'università costruisce di sé una rappresentazione che dovrebbe essere in tutte le sue dimensioni. La scuola democratica è il luogo della coltivazione del futuro attraverso il sapere, l'immaginare e l'accogliere, potremmo dire. Attraverso queste tre azioni, diciamo così, che la scuola democratica insiste a voler praticare nonostante il fatto che negli ultimi anni e in questo momento storico in particolare, invece, si vorrebbe fare della scuola pubblica tutt'altro, cioè un luogo di selezione, un luogo di separazione, di discriminazione, di distinzione. Mentre noi invece crediamo in una scuola che accoglie, che coltiva le diversità, che non le ritiene elemento di distinzione, ma le ritiene invece elemento di identificazione, ma anche di riunione. E crediamo in una scuola che tutto questo lo faccia attraverso il sapere, attraverso la conoscenza. Per questo noi pensiamo che la nostra scuola democratica possa contribuire attivamente alla costruzione, intanto all'esistenza, ma poi alla costruzione della società. Direbbe Elena Pulcini, che Giorgia cita ampiamente nel libro, è il luogo della cura la scuola e anche della responsabilità. Quindi la scuola in questo senso si muove, diciamo così, in questo momento la scuola democratica è in netta controtendenza rispetto alle narrazioni e anche alle decisioni. Quindi non solo a ciò che si dice, ma a ciò che si, ma praticamente si realizza nel nostro paese. Fatta questa breve premessa sul libro e sul nostro dialogo con questo testo di studio, io darei immediatamente la parola a Valentina che apre l'incontro. Sì, Gloria, grazie. Un grazie veramente profondo e sincero per la nostra rivista perché in questo momento questo libro per me è stato veramente una boccata di ossigeno e ringrazio l'autrice ovviamente e la sua disponibilità a essere qui con noi, a confrontarsi con noi. Perché quello che sta facendo in questo momento la rivista e di grande supporto alla nostra associazione è proprio quella di permetterci di immettere appunto idee e linfa nuove che possano aiutarci, come dire, a fronteggiare, scusatemi il lessico un po' guerresco che dovrò usare, però in questo momento sapete che veramente, diciamo, ci sentiamo un po' sotto attacco da tanti punti di vista. E siccome in questo momento siamo proprio chiamati a fronteggiare anche, devo dire, l'ipertrofia legislativa, di iniziative legislative, quasi la bulimia mi viene da dire, delle iniziative legislative del nostro Parlamento e del nostro Ministro in particolare, certe volte capita di sentirsi un po' in apnea perché ci si ritrova a dovere confrontarsi con un sistema appunto normativo che stanno mettendo in piedi in maniera veramente, devo dire, veloce. Nel giro di un anno e mezzo io sono stata convocata almeno una dozzina di volte in Commissione Senato a discutere provvedimenti legislativi che vanno proprio in ordine a tante cose che in questo libro vengono chiarite proprio in maniera veramente esemplare. E quindi ringrazio veramente la rivista e ringrazio l'autrice soprattutto perché con questo testo ci dà anche una chiave di lettura di veramente un quadro concettuale dove iscrivere tutto quello che in questo momento appunto potrebbe sembrare semplicemente una sbornia legislativa e un'ipertrofia, dicevo, un attivismo ministeriale veramente fuori misura. Questo, scusate se diciamo riporto chiaramente il libro anche alle nostre cose perché è importante per noi appunto poter avere come dire una visione altra e un cercare di capire appunto come reagire con le nostre armi che sono le armi fondamentalmente della cultura, del pensiero, della visione politica alta dentro cui il CD si iscrive. Ora, tu dicevi giustamente appunto il libro prende le mosse ed è una sorta di controcanto diciamo del discorso tatcheriano della società, non esiste. Ecco, penso che soltanto adesso leggendo queste pagine mi sono resa conto di come appunto il pensiero di Margaret Thatcher da un lato e di Ronald Reagan dall'altro sia stato veramente diciamo qualcosa, una specie di spartiacque nella nostra politica fino soprattutto appunto a quella cascata che è arrivata fino ai 2000 e di questa confusione tra diciamo pensiero di destra e pensiero di sinistra cioè quella immagine ironica e divertente diciamo per cui ormai si tratta quasi di sceglie tra Coca Cola e Pepsi Cola diciamo fra le due visioni perché abbiamo sentito e noi questo nella scuola lo abbiamo percepito fortemente, mi riferisco in particolare all'era diciamo renziana, no? Perché il controcanto diciamo del discorso di Tony Blair, se vi ricordate insomma il nostro Matteo Renzi aveva proprio come modello, lo diceva esplicitamente, addirittura ne assumeva le posture e l'abito, vi ricordate, no? La camicia bianca, la giacca di pelle. Noi ricordiamo esattamente come appunto il modello bleriano è entrato con forza in quegli anni e attraverso questo strumento legislativo ancora una volta, oltre che ovviamente a tutto un tantam di pensiero eccetera, ma le refluenze sulla scuola per noi sono arrivate chiaramente come un cavallo di troia con la buona scuola, che è stata una legge che conteneva come sempre anche qualche cosa di positivo e di buono, ma il cui impianto, penso chiaramente al sistema integrato 06 o la formazione di insegnanti iniziale, ma in realtà tutto l'impianto era pieno, diciamo, è come dire tossico di una serie di elementi legati a questa, la famosa terza via di cui appunto nel libro di Serughezzi si parla chiaramente, che era quella portata avanti da Blair, da Clinton, da Schrader e appunto dal nostro Renzi qua in Italia. Ora noi ci troviamo adesso proprio in questa fase in cui facciamo i conti con questa destra che chiaramente si è saldata al discorso neocapitalista e sta portando avanti, ecco, dicevo prima, con una impressionante consapevolezza, devo dire, a livello appunto normativo e sta portando avanti non solo a livello normativo, ma a livello culturale. È notizia di qualche giorno fa, lo dicevo stamattina a Gloria, come anche la casa editrice Il Mulino, che per noi è sempre stata, diciamo, una casa editrice progressista, eccetera, adesso ha cominciato a pubblicare dei libri, cambiando evidentemente anche la sua linea editoriale, che vanno esattamente in direzione contraria a quello che è la nostra idea di scuola. Penso a tutto l'attacco che viene fatto con dei libri appena usciti alla figura di Don Milani. E questo è molto interessante per noi, perché siamo proprio al famoso centenario di Don Milani che si è appena concluso, che lascia il passo adesso a centenari di Don Milo Dolci, ma di centenario in centenario noi di fatto stiamo vedendo svuotato, ridotti a Santino da un lato, ma nello stesso tempo proprio buttati giù dall'altare in maniera anche veloce e frettolosa. Stiamo assistendo proprio al killeraggio, passatemi anche una volta i termini, purtroppo vengono termini un po' violenti oggi, al killeraggio delle nostre figure fondamentali, quelle che hanno scritto proprio veramente cornice, testo e contesto della nostra scuola democratica. Quindi, dicevo, l'utilità, l'importanza di questo libro è, tra l'altro sabato noi avremo la nostra segreteria, io mi permetterò, lo anticipo qua, di proporre anche la lettura di questo libro nell'ottica anche di preparazione al nostro coordinamento nazionale del Citi, che terremo, lo ricordo, fra un mese esatto a Roma, nella nostra storica sede, di Piazza Sonnino, perché abbiamo proprio bisogno di avere chiavi di lettura importanti che ci aiutano a non smarvirci, a capire che stiamo vivendo un momento storico delicatissimo e che proprio nell'ottica di fare esistere, resistere e parlare e fare, diciamo, sentire la voce della società, mi viene da dire, e della società che il Citi sogna, della cultura di società e di scuola, perché per noi la scuola è comunque, resta l'asse portante della società e dell'unità del paese, perché la cosa che fa sorridere veramente in questo momento è la scollatura totale fra il disegno, diciamo, nazionalista di un paese che si vuole fare nazione e che si avvicina alle elezioni europee con slogan del tipo più Italia, meno Europa, no? Per cui, cioè, tu ti fai votare per le elezioni europee con questo slogan, eh? È lo slogan chiaramente della Lega Nord, che io continuerò a chiamare sempre Lega Nord, perché ovviamente è soltanto quella di Bossi, che sta realizzando sotto mentite spoglie della secessione dei ricchi, l'autonomia differenziata, il vecchio sogno secessionista di Bossi. Quindi da un lato appunto il nazionalismo, dall'altro lato lo spacchettamento dell'Italia che avviene attraverso il doppio colpo mortale, c'è oggi l'ennesima intervista al presidente di Svimez, Luca Bianchi, che ci dice come chiaramente per l'ennesima volta ci mette in guardia, l'autonomia differenziata va a colpire ovviamente i due pilastri del sistema della società italiana, cioè scuola e sanità. Per cui lo spacchettamento del sistema scolastico italiano in venti sistemi scolastici regionali, va esattamente in quest'ordine, in un ordine in cui le parole d'ordine, appunto scusate il gioco di parole, sono, ma è scritto chiaro, è scritto chiaro nella presentazione della legge, io vi esorto a leggere la relazione introduttiva del ministro Calderoli alla legge sulla autonomia differenziata, perché è più chiaro di così, non lo può dire nessuno, nemmeno l'opposizione. Il ministro Calderoli dice chiaramente che questo disegno di legge servirà a dare accelerazione ulteriore alle regioni già veloci e, come dire, a poter permettere la loro corsa anche alle regioni del sud, che la corsa non l'hanno iniziata mai, no? Come se questo strumento legislativo, privo di qualsiasi sistema di compensazione, e, tra l'altro, il mantra con cui viene giustificato è, se ci fate caso, la questione dei livelli essenziali di prestazione, no? I LEP. Si dice sempre che non abbiamo nulla da temere in questa accelerazione dell'autonomia differenziata, perché ci saranno i famosi LEP, i livelli essenziali, ma è evidente che nessun livello essenziale verrà garantito per il semplice motivo che sono a costo zero, a invarianza finanziaria per lo Stato. Quindi si avrà semplicemente una cristallizzazione nell'ottica anche, che nel libro poi è esplicita ovviamente, nell'ottica del totale, diciamo, ripiegamento sull'individuo, sulla, diciamo, del costruire una scuola e una sanità a misura assoluta dell'individuo, dei suoi, non tanto dei suoi bisogni, ma dei suoi meriti, ancora una volta, cioè della sua capacità poi, meriti che si riscontrano nella sua capacità economica, perché il principio base, cardine, l'autonomia differenziata è a ciascuno, secondo veramente i suoi meriti, cioè secondo la sua capacità di poter meritarsi i servizi essenziali. Ecco, questo, pongo l'accento ancora una volta sul progetto dell'autonomia differenziata, perché insieme al premierato, a me sembra veramente il compimento del disegno tacceriano, se volete, del disegno neocapitalista, ammantato però di questo nazionalismo, appunto, della destra, diciamo, destra storica, di questa destra che ha, nelle sue parole d'ordine, ovviamente le solite parole della destra, che sono appunto ordine, sicurezza, eccetera, identità, neanche a dirlo, su cui appunto anche il libro si sofferma moltissimo. E di contro, appunto, a sinistra abbiamo, diciamo, quella tanta confusione che viene generata anche nell'eccessiva poi atomizzazione anche lì delle singole identità a sinistra, non solo dei partiti, ma, per esempio, degli scontri che avvengono a livello dei diritti, dei diritti civili, dei diritti delle donne, e anche in questo il libro di Giorgia Seroghetti fa un affondo su questo, no? Tutta la vexata questio che si sta muovendo tra il femminismo storico e invece il pensiero LGBT, il pensiero del pride, per dirlo velocemente, no? Io stessa, lunedì, sono invitata da Daniela Dioguardi, che molti di voi conoscete, perché è una figura storica dell'Udi nazionale, è stata anche deputata, e Daniela ha curato questo libro che si chiama Vietato a sinistra, che è un libro con dieci interventi femministi su temi scomodi, e io ho già ricevuto una dozenia di telefonate da parte degli attivisti del pride che mi dicono che cosa stai facendo, perché tu vai a presentare un libro di questo tipo? E io veramente sono basita, perché mi trovo di fronte a un doppio meccanismo sensorio che mi viene dal femminismo storico, che per me è comunque fatto dalle mie maestre storiche, e invece dalle giovani generazioni, delle femministe, trans femministe, che mi dicono, mi vogliono mettere in guardia, mi dicono attenzione, è una trappola, voi del, insomma, vabbè, non mi addentro oltre perché appunto ci vorrebbe un intervento solo su questo, però anche questo è un segno di crisi e di arroccamento identitario, se volete, questo Giorgia lo accenna chiaramente, di due mondi che non riescono più a comunicare, no? Un passaggio che non c'è stato evidentemente, un passaggio di consegne, per cui ci sente minacciati a vicenda e ci si rivolge con parole di violenza a vicenda. Ecco, noi dobbiamo andare esattamente alla direzione opposta, che non vuol dire la mediazione fino a se stessa e fino allo stremo, fino a rinunciare ai propri principi, non è quello assolutamente, ma dobbiamo andare nell'ordine di una costruzione di significati comuni, di una costruzione di un lessico di nuovo comune e di legami sociali comuni, perché viceversa, diciamo, non ne possiamo uscire, andremo veramente verso un'implosione dei nostri cardini fondamentali. Ma io mi fermo adesso perché il libro è veramente pienissimo di spunti e la mia è soltanto veramente un'introduzione per buttare dentro un po' di cose e sicuramente magari forse vi ho confuso di più le idee, quindi sono comunque molto contenta e spero di questo pomeriggio, ma spero che sia soltanto il primo. Ripeto, penso che questo libro per noi sarà importante veramente per aiutarci proprio a ricostruire una cornice di senso, perché in questo momento siamo non alla rimozione degli ostacoli, siamo proprio alla rimozione delle macerie che ci sono, alla ruspa che si sta veramente muovendo con molto un attivismo sfrenato, hanno il dovere non solo di resistere in chiave difensiva, ma di un rilancio culturale delle nostre parole importanti. Tu poco fa parlavi di cura e di responsabilità a gloria. Quelle sono per noi sicuramente due parole carissime e importanti e io continuo a dire che in questo momento storico l'associazionismo professionale come quello nostro del CIDI, non per un arroccamento identitario racciuole, non lungi da me, ma è importante proprio perché il nostro CIDI è diffuso da Gela a Torino, da Bolzano a Palermo, alla Sardegna e quindi abbiamo ancora un lessico comune, ma siamo un'associazione che è nata 52 anni fa, quindi sentiamo anche noi importante il bisogno di avere parole nuove che però non tradiscano, diciamo, da un lato le nostre radici, ma gettino ponti importanti verso il futuro. E io credo che il libro di Giorgia Serughetti ci aiuta moltissimo in questa direzione, quindi la ringrazio calorosamente e ringrazio la nostra rivista per averci dato questa opportunità. Bene, grazie Valentina. Insomma, chiaramente, diciamo, la cornice sull'attualità, il senso più generico, più ampio dello sguardo sulla politica e sugli scenari sono quelli che assolutamente condividiamo, abbiamo condiviso in tante circostanze, che ci consentono, ci consentono, insomma, ci chiedono di restare saldi sulle nostre posizioni, ma anche allo stesso tempo di attualizzarle, cioè di renderle vitali nel nostro operato e nel nostro pensiero di intellettuali, perché, insomma, la scuola è fatta da persone che, come dire, negoziano e trafficano conoscenza. Io adesso comincio una chiacchierata con Giorgia per enucleare alcuni dei temi che lei affronta nel suo libro, che insieme a tutte le caratteristiche che abbiamo finora evidenziato, ne ha una, a mio parere, fondamentale, cioè è un libro plurale, cioè l'ha scritto lei, ma in realtà si è portata dietro, ci fa ascoltare le voci di tantissimi intellettuali, di tantissimi pensatori, tra l'altro di varia estrazione, perché ci troviamo Rodotà, ci troviamo tanti filosofi e filosofe, ci troviamo tantissime persone che dai loro punti di vista hanno, che contribuiscono appunto con i loro scritti e il loro pensiero, contribuiscono a costruire questa, questo pensiero possiamo dire costruttore di società. Ecco, quindi, e per me questa cosa è importante perché ti dà la misura del fatto che non siamo soli appunto a costruire un nuovo un nuovo orizzonte, un nuovo orizzonte di pensiero. La prima di queste, il primo di questi temi che io volevo affrontare con Giorgia che ricordo, ringrazio ancora perché generosissima, è stata pazientissima, le mail, le telefonate, le riunioni di preparazione, insomma, non è, non è stato diciamo indifferente il suo impegno con noi. il primo di questi di questi temi che nel libro devo dire personalmente mi hanno colpito molto e sono in continuità anche con quello che diceva Valentina è la questione della visione come è possibile costruire un noi che lei definisce non identitario o meglio post identitario. Quindi che cosa possiamo come possiamo riscrivere il tema dell'identità come la possiamo ridefinire e soprattutto quali sono le relazioni tra questo approccio e la questione politica la politici la depoliticizzazione quindi diamo la parola a Giorgia a questo punto grazie mille chiacchiereremo con lei su vari alcuni di questi temi e poi diamo la parola alla scuola grazie mille davvero avete fatto tra l'altro due introduzioni bellissime e che già hanno diciamo portato alla luce moltissimi moltissimi dei temi del mio libro e di più nel senso che una delle cose che mi piace di chiacchierare di presentare il libro di fare dialoghi intorno alle idee di questo libro è che ogni volta si arricchisce di nuovi elementi per esempio il tema dell'autonomia differenziata è un tema che io accenno all'interno sullo sfondo di quella che è un po' stata anche raccontata appunto non solo da me ma proprio perché un libro plurale che raccoglie anche tanto dagli scritti dagli autori e dall'autrice di questo tempo è stata raccontata come la secessione dei ricchi questa tendenza tentazione davvero di chi ha di più di separarsi dal corpo largo della società quindi rompendo quello che era stato anche un vincolo legato ai doveri di solidarietà che si esprimono in primo luogo attraverso la tassazione progressiva e quindi la contribuzione alle infrastrutture sociali quelle del welfare state per esempio ecco questo invece è un tempo in cui sembra che effettivamente l'elite e su varia scala in generale chi ha di più sia portato sempre meno a a sentire a sentirsi in un legame di dovere e di dipendenza anche persino dalle classi diciamo dalle classi che nella gerarchia sociale sono subordinate con cui quindi piuttosto che esercitarsi un conflitto appunto esiste una sorta di separazione separazione successiva a quella che è stata chiamata proprio la vittoria a tutto campo delle classi dominanti ecco su questo sfondo l'idea del libro e quella che molto puntualmente Gloria ha ripreso era quella di provare a ripartire da ciò che resiste da ciò che esiste da quelle che io nel libro chiamo anche luci nel buio esperienze movimenti comunità di cura di democrazia di prossimità che che sopravvivono o si o si o nascono nel nel qui ed ora insomma in questo tempo anche nutriendosi del senso della fine di un ordine che ha dominato incontrastato troppo a lungo questo ordine si è rivelato da tutti i punti di vista fallimentare e ancora non si non riusciamo a intravedere in questi vostri interventi sono stati diciamo lucidi è difficile intravedere cosa dove possiamo procedere se esiste una visione alternativa capace di fare da controcanto e fare veramente controegemonia rispetto al modello neoliberista non sembra esserci qualcosa come un progetto politico già diciamo già capace di mobilitare numeri importanti di persone intorno a una visione alternativa ma esistono molteplici soggetti che si muovono che si muovono oggi questo era un po' lo spunto a partire da cui mi sembrava importante tornare a ragionare del noi perché come diceva Valentina poco fa il noi si è frammentato anche nel campo delle lotte sociali contro l'oppressione per la giustizia finendo per adottare radicalizzare quella quella passione per l'identità per essere riconosciuti nel chi si è piuttosto che ciò che si fa o ciò che si desidera o ciò che si vuole realizzare nel mondo e quando ne va del chi si è allora davvero la tentazione di fare una battaglia a tutto campo con coloro che non ti riconoscono pienamente nella tua nella tua identità si fa forte perché ne va veramente della tua del tuo diritto a esistere e quindi questo provoca una radicalizzazione l'esempio dei conflitti fra un mondo femminista radicale mondo queer lgbtq eccetera è molto è molto calzante perché lì davvero si è andata a costruire una sorta di difesa del confine dell'identità di che cosa è una donna chi può stare dentro e chi deve restare fuori da un confine ben tracciato a partire da cui si muovono delle istanze ecco l'idea di un noi post identitario è quella di un noi che invece si costruisce nella lotta nell'agire politico a partire dal fatto che si condivide soprattutto una visione degli obiettivi una idea di giustizia complessa multidimensionale che tenga dentro la dimensione di genere quella della discriminazione razziale la giustizia sociale la giustizia ambientale sono tutte dimensioni di giustizia che difficilmente possono essere separate l'una dall'altra allora l'intuizione soprattutto di alcuni nuovi movimenti poi magari ne parleremo ancora che io analizzo in questo libro è che appunto queste battaglie debbano essere combattute tutti insieme attraverso questa la convergenza dei soggetti nelle stesse battaglie si costruiscono anche delle collettività in lotta che sono più grandi dei singoli gruppi frammentati e legati da una da dall'appunto da identità ben definite però perché lo chiamo post identitario piuttosto che non identitario uno dei grandi pregi l'importanza di quella che è stata chiamata politica dell'identità che per capirvi a sinistra ha significato la politicizzazione di dimensioni della vita personale dell'esistenza personale come il genere come appunto il colore della pelle la sessualità e tutte tutte queste dimensioni che sono state tradizionalmente escluse diciamo dall'ambito della mobilitazione politica progressista o comunque per il cambiamento per l'avanzamento dei diritti per l'ampliamento della democrazia quelle istanze lì hanno cominciato a entrare nel campo politico grazie ai nuovi movimenti sociali del secolo scorso questi nuovi movimenti sociali hanno politicizzato queste dimensioni oggi la diciamo l'urgenza sarebbe quella di non perdere no non perdere di vista l'importanza della politicizzazione di queste dimensioni che hanno arricchito la nostra visione anche di ciò che è la giustizia di quali sono diciamo di come si costruisce un ordine sociale nutrito di diritti no una cittadinanza veramente inclusiva e così via quindi non più mascherata dietro un soggetto unico maschio bianco etero eccetera ma invece effettivamente capace di riconoscere tutte le differenze e tuttavia non fa di queste differenze trasformato in identità esclusive la 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 radice di una frammentazione del campo ma anzi dice bene riconosciamo cioè costruire un noi di questo tipo significa riconoscere che le differenze ci attraversano che vanno riconosciute vanno politicizzate ma al tempo stesso che possiamo lottare no tutte tutti insieme o comunque in collettività grandi perché abbiamo di fronte l'urgenza di trasformare radicalmente l'idea di società no la società che vogliamo sì 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 è chiaro questo diciamo così il riferimento a questi a questi movimenti che tu analizzi nel che sono movimenti anche non solo italiani ma anche diciamo di altre parti del mondo ci danno una una idea tu usi una parola molto significativa secondo me nel leggere la realtà contemporanea e nel capire noi come possiamo contribuire a questa costruzione dico noi non solo in quanto persone ma in quanto insegnanti ed è una parola sulla quale secondo me rifletteremo anche come non solo come associazione ma anche come persone in ricerca insomma il tema dell'intersezionalità che supera per certi versi il tema o comunque l'approccio della dell'accordo o l'approccio anche che noi quando discutiamo di saperi disciplinari noi adottiamo tutta una terminologia che ha a che fare con trasversalità interdisciplinarietà allora io ci trovo un legame strettissimo tra la necessità di affrontare questa costruzione del noi in termini possiamo dire multidimensionali dall'altra parte l'insegnabilità di tutte queste questioni per cui la loro specifica intrinseca intersezionalità secondo me potrebbe offrire a noi che siamo appassionati di ricerca didattica non siamo come dire replicatori ma a noi piace come dire in qualche modo esplorare le strade per intercettare nei nostri ragazzi e nelle nostre ragazze quindi nelle nostre classi in quella cellula di cui parlavo prima intercettare le modalità di conoscenza le modalità di come dire di conferimento a questi a questi studenti a queste studentesse le modalità più efficaci per dar loro gli strumenti per vivere in maniera efficace cioè in maniera costruttiva pacifica in questa società contemporanea la parola che tu utilizzi nel libro che è quella della intersezionalità delle questioni riguarda ad esempio cioè vabbè un esempio chiarissimo una rivendicazione per i diritti di una parte che è quella femminile in alcune parti del mondo ha molto a che fare con il colore della pelle ad esempio quindi è chiaro che le questioni sono appunto intersecate non è possibile distinguere anche perché come dicevamo all'inizio i diritti sono un unicum cioè sono ciò che rendono la persona un attore responsabile e consapevole così com'è di una società civile quindi adesso diciamo ti chiedo di di entrare in questo questo aspetto della intersezionalità appunto che rappresenta un superamento delle prospettive l'intersezionalità in fondo indica qualcosa di non difficile da capire cioè l'intersezionalità adesso è una parola che è entrata molto nell'essico dei movimenti e da qualche tempo anche nell'essico della politica qualcuno l'ha portata no? anche nell'essico dei partiti del centro-sinistra cioè pensiamo appunto Elish Line parla spesso di intersezionalità viene anche preso un po' in giro cioè intersezio che no? e in realtà è una parola sicuramente che proviene dalla teoria femminista ma che si è rivelata molto utile a comprendere più ampiamente l'intreccio tra le dimensioni di discriminazione cioè veramente penso che come parola provenga anche se la prima autrice che l'ha usata che è Kimberly Crenshaw che era una giurista nera americana donna naturalmente l'ha usata senza senza usare questo esempio che vi sto per fare però a me pare che invece proprio ricorrere alla teoria degli insiemi e quindi vedere come esistano delle zone di intersezione tra gli insiemi quell'insieme che chiamiamo cioè gli insiemi naturalmente che identificano dei soggetti a rischio di discriminazione e quindi le donne quindi o comunque una dimensione di discriminazione genere il colore della pelle l'età la classe la nazionalità se vogliamo appunto parlare anche di fenomeni che riguardano le migrazioni la coesistenza fra persone di nazionalità diverse all'interno di uno stesso sistema paese ecco tutte queste dimensioni di discriminazione tra di loro si intrecciano collocando alcune persone in particolare nella posizione di subire contemporaneamente simultaneamente più forme di oppressione o di discriminazione questo ovviamente obbliga anche a complicare un po' le forme che prendono i discorsi di contrasto all'oppressione alla discriminazione perché significherà che non si può combattere per davvero contro per esempio il sessismo la misoginia tutti i fenomeni che opprimono le donne nella società senza tenere al tempo stesso in considerazione le differenze che esistono all'interno del collettivo donne che per esempio fanno sì che in alcuni casi le donne subiscano anche discriminazioni per il fatto di essere donne e disabili e lesbiche e nere e migranti e questo è un'avvertenza molto importante perché mentre chiede diciamo rende più esigente una battaglia per la giustizia dall'altra parte mette anche in guardia da chi prova a anacquare un po' per esempio i termini di una battaglia femminista dicendo che sta facendo delle cose nell'interesse delle donne mentre magari con l'altra mano respinge in mare barche cariche di migranti tra cui donne e bambine allora nell'interesse di quali donne sta facendo una politica per esempio a sostegno della maternità se da una parte sostiene un certo tipo di donne dall'altra parte lascia che altre donne muoiano in mare e che vorrebbero raggiungere il nostro paese quindi serve veramente lo sguardo intersezionale a tenere presenti le differenze anche che esistono all'interno delle collettività anche delle collettività che si politicizzano che portano avanti delle lotte e la veramente l'intreccio tra tutte le questioni che oggi si complica sempre di più perché appunto anche queste battaglie per la giustizia dei gruppi per la giustizia sociale diciamo e per varie dimensioni di giustizia sociale si intreccia con la giustizia climatica per esempio perché anche lì anche gli effetti del cambiamento climatico in verità sono disuguali esistono in previsione ci sono paesi da cui si può calcolare il numero di persone che saranno costrette a migrare per l'impossibilità di continuare a vivere questo è certamente un effetto anche del tipo di collocazione fisica geografica di questi paesi ma altrettanto della distribuzione diseguale delle risorse per far fronte al cambiamento climatico quindi sempre di più le diseguaglianze prodotte dal neoliberino si traducono anche in diseguaglianze di risposta a quella che invece giustamente rappresentiamo come un'emergenza planetaria allora nemmeno queste questioni possono essere trattate separatamente le diseguaglianze sociali e persino quelle di genere perché le donne per esempio sono le più colpite dagli effetti di alcuni effetti del cambiamento climatico tra cui appunto la distruzione delle culture oppure la mancanza di approvvigionamento idrico sono spesso coloro che si occupano della sopravvivenza del nucleo familiare in termini proprio di approvvigionamento delle risorse essenziali quindi veramente non si possono separare queste questioni e allora a livello politico risulta molto importante tenerli insieme ed è giusto anche il tipo di traduzione che tu stai proponendo Gloria cioè di tradurre questo in un approccio applicabile anche alla lettura di testi al modo di affrontare determinati temi perché la capacità di porsi quantomeno la domanda a fronte per esempio della narrazione di un evento storico oppure di fronte appunto a un testo anche letterario porsi la domanda per esempio sulle diseguaglianze di genere che attraversano quel tipo di testo di evento di racconto oppure ancora far riuscire a vedere all'interno di una certa narrazione un controcanto per esempio far emergere il tema del colonialismo o del razzismo tutte questioni che sempre di più gli studenti che fanno studi critici anche all'università cercano di portare all'evidenza fino al punto da mettere in crisi il canone a mettere in crisi la sopravvivenza di alcuni programmi che risultano troppo centrati sulla cultura bianca occidentale eccetera troppo poco attente ad altre dimensioni ora anche senza arrivare a modificare questi canoni forse non è nemmeno necessario la questione è apprendere il pensiero critico capace di leggere criticamente appunto anche anche il tipo di programmi che noi riceviamo e che su cui ci formiamo sì tra l'altro diciamo questo tema sì io ovviamente diciamo concordo diciamo con questa tua diciamo ampia disamina della questione tra l'altro tu fai un discorso interessantissimo anche sulla condivisione delle vulnerabilità che è un'altra faccia appunto dell'intersezionalità un filosofo dell'ambiente Marco Armiero ha scritto nel 21 un saggio bellissimo che io ho qui con me assieme al tuo che si intitola L'era degli scarti allora Armiero elabora una nuova definizione in ambito appunto di studi relativi alla questione dell'ambiente del cambiamento climatico che è la definizione di wasteocene cioè l'era degli scarti per l'appunto waste in inglese vuol dire gettar via insomma allora l'impianto del ragionamento di Armiero per certi versi è molto molto vicino al tuo e lui spiega racconta come in certe parti del mondo la maggiore vulnerabilità cioè determinati contesti di vita dove gli effetti del cambiamento climatico sono più pesanti si originano forme di commoning lui le chiama cioè di vita in comune di comunità di risorse di comunità di scelte di approcci proprio per sabotare diciamo così il wasteocene che tra l'altro viene raccontato e questo su questo diciamo adesso ti ridò la parola viene raccontato come inevitabile e viene portato come modello desiderabile il fatto che questi impianti in cui si deve consumare nonostante diciamo i movimenti di pensiero siano andati molto avanti si continua a raccontare l'inevitabilità di determinati approcci il fatto che siano così semplicemente perché esistono e tu questo lo spieghi benissimo facciamo un esempio legato sempre a questo aspetto dei cambiamenti climatici e delle modificazioni globali anche alla vita delle persone sulla terra oltre che allo sfruttamento delle risorse tu giustamente fai l'esempio di Elon Musk il quale anziché adoperare le proprie risorse finanziarie economiche per intervenire per arginare gli effetti del cambiamento climatico decide di potenziare la ricerca per la vita fuori dalla terra per portare la vita fuori dalla terra ora questi modelli sui nostri studenti sulle nostre studentesse sono purtroppo molto potenti perché e su questo insomma adesso ti do la parola c'è una una come dire una correità mi viene da dire tra l'adozione di un modello e il suo racconto attraverso la comunicazione contemporanea che è un elemento con il quale noi dobbiamo fare i conti cioè il fatto che queste persone hanno accesso alla comunicazione globale facile immediata che arriva senza filtri ai nostri studenti alle nostre studentesse cioè alla nostra società giovane chiamiamola così dentro e fuori le aule quindi su questa questione dei modelli della comunicazione della narrazione dell'inevitabilità insomma ti chiedo di darci una tua lettura sì appunto l'esempio di Elon Musk serviva proprio a parlare sia della totale irresponsabilità di quei ricchi che dicevamo prima chiamati anche giga capitalisti che appunto vivono in un mondo sociale totalmente separato dal resto del corpo sociale che si che rifiutano in verità non sentono alcun legame né né dovere di 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 contribuzione e di solidarietà verso il resto della società è che appunto quando parlano di futuro parlano di un futuro che dà per inteso lo stato degradato devastato di questo pianeta e dunque collocano nel futuro i sogni arditi dell'appunto colonizzazione di altri pianeti quasi appunto per quasi come corollario come conseguenza di una propensione all'abbandono a se stessi del pianeta stesso e di tutti coloro che dal cambiamento climatico come dicevo prima subiscono che del cambiamento climatico subiscono in maggiori effetti no quindi a fronte di questa secessione dei ricchi quello che noi abbiamo è il bisogno di ripensare di secessione dei ricchi e appunto sogni post post terrestri diciamo di questi aspiranti naviganti planetari quello di cui abbiamo bisogno è davvero un'idea di futuro perché una delle ragioni per cui funziona il realismo cioè uno dei meccanismi attraverso cui funziona quello che è stato chiamato il realismo capitalista cioè la capacità di convincerci che non c'è alternativa e che questo è il mondo e ciò che va fatto questo è l'unico mondo in cui possiamo vivere che non c'è un altro mondo né un modo possibile di vivere in questo mondo in modo più giusto e quindi anche più felice cioè appunto avendoci tolto l'immaginazione poi ripetiamolo non ce l'hanno tolta per davvero siamo qua anche perché abbiamo continuato ad alimentare sacche di importanti resistenza anche immaginativa al realismo capitalista però senz'altro c'è stato un effetto dominante e comunque ampio e pervasivo di depotenziamento dell'immaginazione critica e quindi anche della capacità di sognare di sperare in un futuro diverso adesso ritornare a immaginare il futuro sembra necessario perché altrimenti diventa veramente molto difficile capire come un giovane che oggi nasce e cresce in un mondo all'interno del quale è diciamo tema quotidiano la fine del mondo per quale ragione mai dovrebbe avere insomma come dire sognare in grande no avere ambizioni di impegno di cambiamento del mondo intorno a sé se il mondo sta per finire e se non ci possiamo fare niente perché che cos'è che dovrei fare se non pensare all'interesse mio immediato quello diciamo che mi condurrà da qua ai prossimi decenni più o meno a fare una vita eventualmente agiata e quindi competere il più possibile per ottenere il massimo delle risorse cioè che cosa davvero si sta perché davvero dovrebbe aderire a una visione diversa da quella dominante del neoliberismo cioè quella per cui semplicemente si cerca salvezza per sé è essenziale pensare ricominciare a pensare collettivamente al futuro anche per ridare forza all'idea che il cambiamento sia possibile e che vuol dire fondamentalmente riabilitare il ruolo della politica perché anche la politica è stata appunto una grande uno dei grandi sconfitti dell'era neoliberista per gli effetti che già avete detto di dedemocratizzazione di assoggettamento della scelta politica a diktat a direttive che provengono essenzialmente dagli attori economici quindi l'impotenza della politica la sensazione diffusa che la politica in realtà si sia ridotta a niente cioè un discorso autoreferenziale che in verità non fa altro che diciamo eseguire istruzioni che provengono dai poteri folli dal mondo della no allora di fronte a questo esatto di fronte a questo impegnarsi in politica sembra la scelta più folle che c'è dunque perché si si appunto ritorna in campo il desiderio anche di politica occorre reimmaginare la possibilità innanzitutto del cambiamento e anche attraverso la percezione del fatto che esista una dimensione collettiva che può essere riattivata perché è chiaro che nessuno dei problemi che stiamo dicendo possono essere problemi che affrontano le persone da sole cioè quando si dice durante la pandemia lo disse tra l'altro Papa Francesco nessuno si salva da solo tutto sommato stava dicendo una verità che è una verità anche laica e non soltanto appunto religiosa che riparte dall'interdipendenza in particolare quando abbiamo di fronte degli scenari di crisi e di problemi così articolati e complessi è l'unica possibilità di appunto di sconfiggere quella sensazione di immobilismo e di impotenza legata appunto a questa coltre di realismo che ci fa dire che in fondo le cose non possono che andare così come vanno per fare tutto questo c'è bisogno veramente di ricominciare a immaginare e se non sono i soggetti collettivi a ridare speranza nella possibilità del cambiamento e quindi a riattivare questa immaginazione politica non si vede da dove dovrebbero arrivare i studenti oggi stanno ricominciando e questo diciamo è un segnale del fatto che dopo la stagione della pandemia dopo la chiusura per tanti anni nelle case in un tempo in cui la storia per così dire è tornata a bussare alle porte è lontana l'illusione di quella fine della storia fine di tutte le contraddizioni un mondo pacificato globalizzato e dominato dall'economia di mercato oggi tra la pandemia seguita dalla guerra e la crisi climatica la sensazione sempre più forte che un certo mondo stia finendo ecco forse le ragioni per ritrovare un po' di speranza nell'agire collettivo ci sono tutte e stiamo vedendo che appunto anche in particolare in questo caso sul tema della Palestina ma prima c'è stato dominante il tema climatico i giovani sono richiesti di muoversi sì sì infatti diciamo come ultima ultimissima citazione così poi diamo ultimissima battuta sulla concezione sul concetto che tu richiami e sul quale discuti Giorgia di Appadurai il futuro è un fatto culturale e questo ci chiama in causa cioè ci ci dice insegnanti datevi da fare mondo della scuola datevi da fare perché appunto costruire appunto una cultura del futuro in cui ci siano gli aspetti disciplinari gli aspetti scientifici ma anche come dice proprio Appadurai che tu riprendi e sul quale appunto ti chiedo un'ultima considerazione tutto un mondo di emotività e di sensazioni anche bella l'espressione cultura del futuro cioè questa questa idea proprio di dotarsi di strumenti anche di conoscenze e in generale di strumenti culturali che alimentino quella capacità di aspirare di cui parlano Appadurai che è essenziale cioè innanzitutto bisogna essere cioè gli esseri umani tendono ad aspirare hanno delle aspirazioni si pongono un problema relativo al futuro e ambiscono a che il futuro sia migliore del presente ma per farlo hanno bisogno di condizioni abilitanti se viene compresso interamente l'orizzonte immaginativo è quello che fa attivare capacità orientate alla costruzione del futuro che appunto è sempre un oggetto culturale è sempre l'idea del futuro è sempre contestuale relativa al tipo di cultura dentro cui si origina ecco se mancano strumenti per poter aspirare si aspira meno ci si accontenta un po' di più e forse davvero appare meno credibile il fatto che le cose possano cambiare quindi riaprire la prospettiva del futuro vuol dire reimparare ad aspirare o anche asperare se vogliamo dirla con un filosofo che invece è e quindi imparare a sperare è qualcosa che se a sperare si può imparare allora vuol dire che si può anche insegnare e quindi questo dà ovviamente un ruolo a chi insegna e non vuol dire ovviamente insegnare cosa sperare a cosa aspirare ma significa dare strumenti per intanzitutto per poter vedere criticamente la realtà e quindi per certi versi operare un'azione irrealizzante nel senso uscire da questa colte di realismo rendersi conto che non è l'unico modo possibile di vivere in questo senso io penso che la pandemia sia stata abbastanza sconvolgente come esperienza perché a ciascuno di noi in maniera estremamente diversa ha consegnato l'idea che non ci fosse niente di ovvio nel nostro modo di vivere non è ovvio perché ha potuto essere interrotto ma non è ovvio anche perché per chiunque abbia magari persino come dire silenziosamente goduto di un momento di interruzione del vortice di attività si sia avvicinato magari un po' di più agli affetti cari e abbia avuto la possibilità di leggere di imparare una lingua straniera o qualunque cosa quell'esperienza ci ha anche consegnato l'idea che forse viviamo in un modo tutt'altro che desiderabile per il ritmo di lavoro che abbiamo per il fatto che sacrifichiamo gli affetti il tempo necessario alla partecipazione all'attività politica culturale del nostro tempo quindi quell'esperienza di interruzione è un'esperienza di tipo irrealizzante è stata forzata però è stata importante dopo la quale si può generare l'immaginazione dell'alternativa non è quello che è successo si è richiuso rapidamente l'orizzonte immaginativo e l'emergenza pandemica è stata rapidamente sostituita dall'emergenza bellica e abbiamo cominciato a parlare in termini di guerra così come avevamo fatto anche purtroppo durante la guerra al virus e quindi questo linguaggio bellico è come se ci avesse permeato ma resta che in verità se ritorniamo con la memoria a quel momento una memoria vissuta ci rendiamo conto che ci sono dei desideri che abbiamo scoperto in qualche caso di noi e che effettivamente orientano anche l'aspirazione verso un futuro diverso solo che devono farsi collettivi cioè serve la politica è sempre l'arte del collettivo non dell'individuale e quindi serve che i problemi individuali come diceva Don Milani siano riconosciuti come quelli di tutti e allora uscirne insieme la politica e quindi se non si vede il nesso e se non si costruisce collettività è molto difficile anche aspirare al futuro certo e infatti noi siamo qui anche per questo cioè per dare forza alla nostra collettività di associazione per la scuola sostanziare pensiero e creare anche di condivisione di sviluppo ecco per noi stessi io adesso darei la parola a a Marilena Nobis che è la prima dei tre insegnanti che ai quali ho chiesto di partecipare per testimoniare appunto un certo modo di essere insegnanti per la società cioè noi abbiamo pochissimi anni fa abbiamo pubblicato due volumi che si intitolano Una scuola per la cittadinanza che nella sostanza è un'operazione collettiva anche quella 70 autori coordinati dall'ex direttore della rivista Mario Ambel lì si spiega come la scuola è sostanza costruzione di sapere intento intenzionalità proprio per la per la cittadinanza e anche là c'è la questione dell'intersezionalità c'è una parte in cui alcune questioni le questioni di genere le questioni della vulnerabilità eccetera sono si richiamano tra di loro cioè i contributi degli autori in maniera assolutamente singolare ma insomma non sorprendente si richiamano tra di loro quindi adesso io chiedo ai nostri amici colleghi di vari ordini di scuola cominciamo con Marilena Nobis che è un'insegnante di lettere in un liceo di Pescara di appunto condividere in questo orizzonte la sua esperienza di insegnante per la società buon pomeriggio innanzitutto io ringrazio Gloria e la redazione insegnare per avermi dato questa importante opportunità di poter partecipare a questo evento e anche di conoscere il libro ricco di spunti della professoressa Serugetti innanzitutto faccio una premessa io insegno filosofia e storia non lettere comunque una piccola premessa la vorrei anche fare sui ragazzi cioè io insegno in un liceo precisamente liceo classico si trova nel centro della città e l'utenza è un'utenza per lo più medio alta quindi i ragazzi che hanno scelto di studiare discipline classiche perché attratti da queste però io noto che i ragazzi da un po' di anni a questa parte soprattutto dopo la pandemia hanno molte fragilità fragilità dovute al fatto che un po' va bene l'aspetto pandemico soprattutto una società che come delineato bene nel libro della Serugetti una società più volta esaltare le diciamo le prove performanti il successo quindi una società altamente competitiva e il licee soprattutto quello classico è un luogo effettivamente di competizione e quindi la maggior parte di loro sono pressati dalla società ma anche dalle loro stesse famiglie che si aspettano da loro risultati sempre eccellenti per cui entrando in classe si nota diciamo dai loro sguardi da come si pongono questa ansia di prestazione questo stress diciamo una vera e propria sindrome da primo della classe ecco perché io insieme ad altri colleghi cerchiamo di far sì che la classe sia un laboratorio più che altro in cui giustamente come ha detto Gloria il sapere e la conoscenza debba essere considerato un bene comune un bene da condividere crescere insieme studiando e non avendo paura di sbagliare la paura dell'errore se vogliamo la competizione come diceva Freud è una predisposizione naturale dell'uomo però deve essere una competizione buona positiva che unisca e soprattutto bisogna anche lo faccio stesso incentivare i ragazzi a affrontare diciamo anche nuove nuovi percorsi attività senza avere paura di darsi dei limiti e di solito io mi concentro molto sul concetto di rappresentanza e anche sul problema attuale si ha i problemi geopolitici per far sì che i ragazzi comprendano meglio quali sono le vere cause come il caso Israele-Palestina ma anche Ucraina-Russia perché io insegno in un triennio quindi spesso l'esigenza di andare a manifestare c'è però devono sapere anche la storia che c'è dietro insomma sapere veramente con condizione di causa perché cosa si va a manifestare oppure anche vedo molta quella che diceva la Serghetti ecoansia sì la paura del diciamo di questo di quello che sarà il futuro di questo pianeta ma anche le catastrofi naturali che stanno svolgendo quindi mi trovo a lavorare su diversi fronti per quanto riguarda il concetto di rappresentanza devo dire che nella nostra scuola le assemblee di istituto sono diventate da alcuni anni molto fervide cioè non è più un momento di perdita di ore di lezione ma per esempio i miei rappresentanti di istituto perché in classe ce li ho mi chiedono consiglio allora io dico beh invitate per esempio ci sono giornalisti locali storici comunque esperti in vari settori per tematiche sociali attuali quindi sia il discorso del femminismo ma soprattutto femminicidi come anche l'inquinamento come anche anche l'aspetto se vogliamo politico tant'è vero che ho due caporedattori che in classe adesso noi nella nostra città dobbiamo eleggere il futuro sindaco quindi vengono invitati i candidati per cui loro si preparano tutte le domande e quindi già si pongono davanti a delle persone in carne e ossa per approfondire insomma cosa loro propongono alla cittadinanza e questo già è molto importante per loro perché prendono coscienza veramente di cosa sia la politica di come i politici insomma si pongono loro stessi verso questi giovani elettori futuri lettori sull'ecoansia io dico che sì è giusto parlare del pianeta in generale già avevo fatto diverse lezioni non solo su Elon Musk ma anche su Jeff Bezos e Richard Branson perché anche loro diciamo incanalano i loro soldi in fondi su possibili future missioni ecco alla ricerca di pianeti alternativi al nostro però è anche giusto parlare della salvaguardia dell'ambiente a livello territoriale pure e per questo io ho fatto da tre anni c'è un progetto che è molto seguito ed è il progetto sul territorio della nostra città di Pescara per far conoscere come questa città era storicamente una città giardino aveva un fiume bellissimo dove si poteva pescare nuotare c'era una vegetazione lussureggiante la pineta danunziana era molto più estesa di quella che abbiamo oggi e il verde i canneti i canneti lungo il fiume erano bellissimi ci sono delle foto ma anche serigrafie che dimostrano una realtà diversa da quella che c'è oggi una colata di cemento questa città come tutte penso le città in Italia e loro in questi tre anni studenti di varie classi sezioni hanno con partecipazione vissuto anche con uscite didattiche mirate quello che era il territorio cittadino che aveva un patrimonio paesaggistico ma anche culturale che adesso ormai è scomparso quindi il proposito di questo progetto è di far sì di magari ritornare a chiedere anche ai politici che vengono intervistati di tornare insomma a piantare qualche albero in più insomma a pulire il mare purificare insomma il fiume e poi a mantenere viva anche quel foco di memoria che c'è anche dal punto di vista di edifici di un certo pregio che rischiano di essere abbattuti per una politica edile insomma veramente assurda e da questa sensibilizzazione attraverso questo progetto verso l'ambiente che comincia a essere l'ambiente territoriale locale ma che è importante anche per una sensibilizzazione ulteriore estesa però si parte dal territorio dove si vive e poi sul discorso a me colpito molto la professoressa Serudetti quando ha parlato di quattro fratture che adesso chi ha letto il libro magari mi capisce meglio quattro fratture che vi sono nella società questa società neoliberista e la quarta noi e loro che richiama la teoria di due psicologi che sarebbero Teufel e Turner che parlavano di in group e out group cioè appunto questo da una parte un gruppo di appartenenza al tribalismo come diceva la professoressa Serudetti nel libro quindi un gruppo che creano poi alla fine stereotipi e pregiudizi su tutto ciò che non rappresenta i loro valori le loro quindi le loro idee e quindi l'altro è visto in modo diciamo diverso pericoloso pensiamo ai migranti pensiamo anche se vogliamo chi cambia il genere io in classe ho diversi ragazzi che stanno facendo una diciamo un passaggio e la cosa bella ecco perché dico alla professoressa Serudetti la scuola esiste esiste e io ho grande fiducia in questi giovani perché questi ragazzi che stanno cambiando genere hanno l'appoggio il sostegno dei loro compagni cioè non si vede nei compagni nessun cenno di discriminazione di presa in giro cosa che invece avviene fuori e quindi io questo sono molto orgogliosa e anche il discorso dei migranti e poi dopo chiudo perché non vorrei essere logorroica ma anche per il discorso dei migranti io ho la fortuna di avere in classe dei ragazzi che fanno parte della Croce Rossa e si recano ad Ortona divenuta uno dei porti su cui vengono mandate ad attraccare le imbarcazioni le ONG diciamo lo Sian Vinti che sono usate nella pronuncia però per sbarcare i migranti che poi vengono distribuiti nell'interno del territorio abruzzese e sentire questi ragazzi che partecipano limitatamente perché sono momenti di alta psicologicamente vengono provati quindi cercano anche la Croce Rossa insomma di non far parteciparli troppo questi giovani di fronte all'arrivo di questi migranti un arrivo drammatico come loro mi raccontano che veramente li colpisce psicologicamente e però grazie anche a un percorso che ho fatto con il Civi cioè Ritorno al Mediterraneo 2 mi hanno dato dei lavori molto belli quindi anche questa sensibilizzazione questo oltrepassare questo noi e loro ecco andare al di là di questa frattura che è voluta e fermo veramente voluta dalla società di oggi e anche dalle loro famiglie perché le famiglie sono molto conservatrici e finisco grazie grazie Marilena grazie di cuore dal tuo intervento e dalla tua testimonianza secondo me possiamo trarre alcune alcuni spunti diciamo fondamentali intanto che al realismo capitalistico corrisponde un realismo del programma che noi ignoriamo sistematicamente che demoliamo perché Marilena ha elencato una serie di iniziative che non hanno nulla a che vedere con l'idea con la concezione egemonica del programma e con un'idea discriminante della scuola è molto interessante la questione diciamo entrando facendo un'incursione nell'epistemologia delle discipline è molto interessante sarebbe molto interessante affrontare una rilettura una reimpostazione di una disciplina che nelle scuole secondarie di secondo grado nei dicei è molto maltrattata e cioè la geostoria che consentirebbe una lettura critica multidimensionale potremmo dire intersezionale delle questioni anche contemporanee è molto interessante anche nel discorso di Marilena l'educazione e la rappresentanza che la scuola si deve in qualche modo intestare cioè le assemblee di istituto non sono affare degli studenti e gli insegnanti non partecipano ma mettono in gioco a parte tutte le competenze disciplinari che crescono nel corso degli anni ma mettono in gioco proprio la costruzione di un individuo che ha voglia di partecipare in primis a ciò che lo caratterizza come minore e cioè la comunità scolastica e successivamente poi le azioni all'interno del territorio in cui si realizza la propria esperienza di crescita e di cittadinanza quindi i lavori sul territorio l'incontro con i candidati quindi questa è una testimonianza appunto di una scuola che lavora con scelte perché le scelte di Marilena che sono le scelte di tantissime persone nella scuola italiana per fortuna sono scelte appunto per la costruzione degli studenti come persone attive consapevoli critiche anche emotivamente coinvolte come lei stessa ci ha ci ha testimoniato un ultimissimo riferimento e poi do la parola a Ruggero Marilena ha fatto riferimento al lavoro di ritorno al Mediterraneo che è un'operazione che il CIDI sta portando avanti attraverso le sedi territoriali di tutta Italia di studio ricerca riflessione e sperimentazione proprio nell'ottica dell'approccio plurale alla questione del Mediterraneo che non è semplicemente un oggetto geografico ma attraverso la sua geografia c'è la sua storia c'è il suo presente e c'è la sua dimensione politica quindi una sua dimensione capace di dare una prospettiva a questo a questo approccio qui con noi c'è Caterina Gamaldi che è l'animatrice diciamo così ma gli insegnanti che in tutti gli ordini di scuola da partire dalla primaria lavorano su questo sono veramente tanti do adesso la parola a Ruggero Policastro che è un professore di lettere in un istituto tecnico scusate tecnico professionale di Firenze Buonasera Allora vi dico subito che il libro mi è piaciuto molto quindi mi accodo ai ringraziamenti che sono stati rivolti sia all'autrice che alla direttrice Gloria Calic che mi ha ci ha suggerito la lettura di questo libro Allora questo libro nel secondo capitolo elenca quattro fratture di cui parlava anche Marilena poco fa quattro fratture prodotte dalla cancellazione prima linguistica nel vocabolario e poi reale nei fatti dell'idea di società Allora una di queste fratture può essere disegnata in senso orizzontale scrive Serughetti ed è quella che separa il centro dalla periferia intese come nozioni non solo geografiche ma anche sociopolitiche e culturali Ecco come prima cosa posso dirvi che la scuola dove lavoro è una scuola di periferia ci lavoro ormai da sette anni è la scuola di una periferia di una città come Firenze in cui il centro è assediato dal turismo mercificato che ha cacciato i residenti dal cuore medievale rinascimentale culturale della città per relegarli appunto in questa periferia geografica e anche culturale quindi chi la abita la mia scuola vive in periferia sia che si tratti di uno dei duemila studenti che la frequentano ogni giorno perché è una scuola molto grande sia che si tratti di uno dei lavoratori della scuola ecco da questo mio punto di osservazione almeno apparentemente sembra che la società non esista anzi io che appartengo alla generazione dei millennials essendo cresciuto senza centri di aggregazione senza un partito senza un circolo senza un movimento mi viene da dire che forse la società non l'ho mai vista ecco e vedo anzi molti miei coetanei imprenditori di se stessi diciamo che hanno fatto proprio sia la logica dell'individualismo competitivo sia il mantra dell'efficienza e sono qui riprendo proprio le parole del libro ingranaggi di un grande meccanismo sociale formato dalla semplice somma di interessi individuali e fra l'altro non sempre convergenti però ecco sono d'accordo con l'autrice quando sostiene che qualcosa si muove la mia scuola dista dieci chilometri dalla GKN l'azienda di cui tanto si è parlato negli ultimi mesi anni ormai anzi e di cui parla Giorgia Serughetti nel libro sono di nuovo d'accordo con lei quando dice che è una esperienza bellissima di convergenza distanze di cambiamento perché lì si salda la lotta per il posto di lavoro contro le delocalizzazioni a un futuro diverso anche dal punto di vista della sostenibilità ecco io a scuola ho parlato spesso della GKN questa è una prima cosa che la scuola secondo me può fare che può fare un insegnante interessato ad agire nell'ottica della costruzione della società come prima pocosa può guardarsi intorno e portare dentro le aule quello che c'è fuori può fare analisi grammaticale o analisi logica io insegno lettere ad esempio utilizzando un articolo di giornale magari un buon articolo di giornale può analizzare con i suoi studenti un testo argomentativo proponendo loro un pezzo che parli dell'emergenza ambientale oppure mi è capitato recentemente un articolo che parli di relazioni tossiche può fare storia stimolando collegamenti con il mondo attuale questo già si diceva appunto insomma i docenti attenti che io credo siano tanti lavorano continuamente per formare cittadini consapevoli anche mentre sembra che facciano altro vi riporto un episodio banalissimo ma che spiega secondo me come provo a fare scuola io come fanno scuola molti colleghi molto più bravi di me pochi giorni fa con i miei studenti di prima quelli quelli più giovani stavamo studiando l'azione politica di Pericle nell'Atene del quinto secolo avanti Cristo e si leggeva di come Pericle si appropriò del tesoro della Lega di Delo per costruire per spendere quindi per finanziare le casse dello Stato di Atene e ecco partendo da qui e ragionando insieme siamo arrivati a parlare e non è stato difficile delle politiche fiscali di oggi di flat tax di progressività e saremmo potuti arrivare a parlare magari della Thatcher appunto no? si nominava prima e da cui appunto prende prende anche il titolo il libro e i miei studenti di prima che sono appunto quelli più piccoli che si litigano la merenda che non sembrano avere a guardarli da fuori tutta questa attenzione per l'altro mi sembra che abbiano capito pur ognuno con il loro punto di vista ovviamente hanno capito però il valore dei beni comuni l'importanza dei servizi la necessità di contribuire anche con i propri soldi al benessere della società a differenza di quello che fa Elon Musk oppure quelli di cui si parlava prima in pratica durante un'ora di lezione mi hanno capito quello che i loro genitori non capiscono o almeno in pochi quindi con quegli stessi studenti inoltre provo a fare un altro tipo di lavoro che è il tentativo di ricucire un'altra delle fratture di cui di cui parla il libro sempre in quel secondo capitolo di cui parlavo prima che è quella fra l'io e gli altri allora questa frattura innegabilmente esiste lo si diceva prima ne parlava anche Marilena allora nel mio istituto si sono inventati un progetto secondo me molto bello che si chiama ora di classe che non è il solito progetto di cui la scuola è piena e che non aggiunge nulla questo mi sembra che aggiunga molto nacque in quell'anno sciagurato che era il 2019 2020 da una collaborazione fra alcuni insegnanti e la USL il dipartimento di promozione della salute della USL toscana e lo scopo principale di questo progetto attraverso una serie di attività che si fanno in aula in un'ora alla settimana dedicata esclusivamente a quello è creare un ponte fra la persona e gli altri e in questo modo in primis prevenire forme di bullismo e poi cercare di starare un clima sereno collaborativo in pratica si lavora sulle relazioni cosa che per carità a scuola si fa sempre perché appunto la classe è la classe è un gruppo però qui gli si dedica uno spazio un tempo ben preciso e quindi si lavora sulle relazioni si prova a costruire un ponte con l'altro ecco la prima volta che abbiamo fatto l'ora di classe quest'anno la collega di sostegno che è in compresenza con me che era nuova e che quindi non conosceva il progetto è rimasta stupita anzi direi sconvolta vedendo 20 maschi perché si tratta di un istituto tecnico in classe sono tutti maschi me compreso che parlavano di sentimenti ed emozioni ora capite da soli il valore che tutto questo può avere in un contesto maschilista come quello in cui siamo immersi ecco a scuola ci sono tante esperienze meravigliose a volte strutturate promosse diciamo dall'alto l'ora di classe potrebbe essere una di queste che poi in realtà è nata all'interno dell'istituto quindi dall'idea di alcuni docenti e altre volte invece ci sono esperienze nate dall'iniziativa di un singolo docente attento anzi per quanto riguarda le esperienze promosse dall'alto mi viene da dire che spesso portano con sé un carico di burocrazia estenuante e istituzionalizzano solo ciò che già si faceva già esisteva il tutor a scuola già esisteva il mentor solo che li chiamavamo in un altro modo non con un nome inglese anzi erano i docenti che avevano a cuore il destino dei propri ragazzi oltre al tutor e al mentor mi viene in mente l'educazione civica che da qualche anno è a tutti gli effetti una disciplina trasversale con tanto di voto a me pare che gli insegnanti l'abbiano sempre fatta l'educazione civica non ho certo bisogno che nasca una nuova materia per ascoltare con i miei studenti ad esempio il discorso che Piero Calamandrei tenne proprio a degli studenti il 22 di gennaio 1955 che secondo me è l'esempio perfetto di ciò che bisogna dire ai ragazzi e cioè che una delle gioie più grandi della vita è sentirsi parte di un tutto Calamandrei dice proprio questo insomma queste esperienze che ho preso esempio provano a rifucire quelle fratture di cui parla il libro e a promuovere istanze di cambiamento in un certo senso si preparano gli studenti a partecipare si danno loro degli strumenti qualche volta anche delle radici io insegno anche un po' di letteratura anche se in un istituto tecnico e professionale sembra una bestemmia sembra che non si debba fare sembra che i miei studenti debbano diventare solo ingranaggi della macchina che debbano solo sapere fare con la letteratura in effetti si fa poco però la letteratura viceversa può fare tanto ad esempio può offrire radici a ragazzi che spesso non ce l'hanno per mille ragioni ad esempio perché sono nati in un altro paese in un recente articolo di Gemma Romano pubblicato sul post questi ragazzi senza radici venivano paragonati mi era piaciuto molto a a Mohamed Shehab il protagonista di una nota poesia di Ungaretti in memoria che qualcuno di sicuro si ricorderà e ecco la letteratura può per usare le parole di Ungaretti sciogliere il canto del loro abbandono direbbe direbbe lui forse cioè può aiutarli a capire che sono parte di quel tutto di cui parlava anche Calamandrei ecco mi avvio alla conclusione dell'intervento però ci tengo a dire che molte persone che lavorano a scuola non tutte ovviamente però molte lottano quotidianamente contro mille difficoltà ma alcuni di noi si battono contro le logiche aziendaliste che nelle scuole come la mia hanno fatto irruzione ormai da anni decenni lo sapete tutti molto meglio e che vorrebbero appunto l'istituzione scolastica servita agli interessi economici e di cui si vede fra l'altro un esempio lampante nella recente proposta di ridurre a quattro anni il percorso degli istituti tecnici e professionali cioè delle scuole come la mia sull'insegnare se ne ha parlato approfonditamente insomma io vedo al di là di questi tentativi una scuola che costruisce società e coltiva la speranza visto che si è parlato anche di questo di speranza in molti modi diversi certo molto dipende dall'azione del singolo insegnante ma io insegnanti che lavorano in questo modo ne vedo molti moltissimi e leggendo il libro leggendo l'ultima parte quella in cui si parla di futuro di speranza appunto mi è venuto in mente un altro libro stavolta un romanzo che ho letto qualche anno fa e che aveva molto successo vinse vinse il premio strega quindi immagino che qualcuno l'abbia letto il colibri di Sandro Veronese quel romanzo là si chiudeva si chiude con delle pagine potenti che parlano della nascita di un individuo l'uomo del futuro che poi non a caso era una donna e che era in grado di cambiare il mondo ecco chi fa scuola in una certa maniera ha questo come obiettivo quello di formare degli individui che guardino al futuro con speranza degli uomini e delle donne del futuro che siano in grado di plasmarlo ecco questo futuro trasformandolo a società e creandola laddove ancora sembra non esistere visto che ancora sembra non esiste ecco mi piaceva chiudere con questo con un altro mento letterale ecco grazie grazie di cuore Ruggero tra l'altro Eraldo Affinati ha scritto un libro su Don Milani che si intitola l'uomo del futuro e quindi diciamo la connessione tra tutto quello che noi stiamo dicendo mi sembra molto più sempre molto evidente la scuola come tu hai perfettamente chiarito ha un compito importante di ricucitura di tutte queste fratture e spesso è come questa cosa noi al Cini l'abbiamo detta tante volte la scuola è più avanti delle leggi del ministero l'ora di classe è l'educazione sentimentale ex legge che è il ministro cioè al di terra c'è spiccia casa voglio dire a voi in particolare che avete costruito intorno a dei bisogni avete costruito una non un fare altro perché la vostra ora di classe non è altro rispetto alla scuola è una dimensione dell'essere dello stare a scuola del fare scuola e in questa dimensione ci sta anche il come dire il il far crescere questi ragazzi che sono prevalentemente maschi ma in qualche classe sono certa che ci sarà anche qualche ragazza far crescere queste persone che frequentano la vostra scuola come esponenti di una collettività perché abbiamo detto all'inizio la cellula fondamentale di funzionamento della scuola è la classe che è un gruppo ma tante classi formano una scuola le scuole sono grandi grandi comunità e quello che dice Ruggero a proposito del fatto che in queste comunità ci sono gli studenti e le studentesse ma ci sono anche gli insegnanti ecco io credo che su questo il cibi noi insegnanti che pratichiamo che siamo fatti mi viene da dire di scuola democratica abbiamo un ruolo importantissimo cioè proprio di creare ambienti in cui certi discorsi certe parole siano sempre presenti magari non vincenti ma sicuramente sempre presenti perché prima o poi si genera altro cambiamento e altra democrazia e altra cultura ultimissima cosa volevo dire a proposito del discorso che ha che ha fatto Ruggero sul fatto che la contemporaneità si insegna attraverso il passato attraverso le ragioni del passato una rilettura intelligente e rigorosa del passato che non significa attualizzazione significa semplicemente leggere interpretare ed essere cittadini contemporanei che si approcciano appunto ad una storia che può essere anche un racconto letterario un modo di immaginare ecco così come come Ruggero ci ha ci ha ben detto insomma sulla burocrazia delle scelte dall'alto non spendiamo parole perché qua siamo tutti espertissimi in questo approfitto per fare questo piccolo spot tutte queste questioni sia che quelle che sono emerse dall'intervento di Marilena ma anche queste che Ruggero ha sollecitato come dice lui giustamente si trovano sulla rivista la nostra rivista è uno spazio in cui si entra entrano i lettori entrano gli autori e le autrici e all'interno di questa rivista si creano pensiero relazione idee e spunti per lavorare per essere insegnanti attivi in questo senso a proposito di diversità e di luoghi di incontro do la parola per concludere con le parole della scuola ad Antonella Tredicine che è professoressa di lettere alle scuole medie allora grazie Gloria grazie alla rivista e grazie appunto all'opportunità di leggere il libro di Serughetti e dunque a proposito di nuove narrazioni come si diceva prima e del suo libro plurale anche la scuola è pluralità e quindi diciamo che il mio contributo dà voce proprio alla pluralità delle nostre aule e quindi cominciamo con con Avenone non so Gloria se vuoi mandare la prima slide buongiorno mi chiamo Avenone le vorrei far fare una piccola riflessione per cominciare per cominciare studio in Italia ma non sono italiano ho raggiunto la capacità di scriverle questo pensiero piano piano provengo dal Bangladesh il mio viaggio comincia da lì dopo tanti sacrifici ho avuto l'occasione di venire qui nella mia terra non andavo a scuola il mio percorso è iniziato qui come una goccia che dall'alto cola studiando qui ho imparato molto grazie alle maestre professoresse professori che bene mi hanno accolto il risultato del mio studio da questa poesia si può notare quindi ci pensi se la percentuale degli studenti stranieri conviene abbassare credo che a tutti sia chiaro il destinatario la scuola quindi è la prima forma di istituzione pubblica luogo di incontro fra pluralità di voci di volti baluardo nel rimuovere gli ostacoli alla piena inclusione per una società di uguali l'esperienza dell'aula mi ha insegnato e continua ad insegnarmi a declinare l'esercizio paziente dell'ascolto e dello sguardo educando a passare non solo lessicalmente dalla visione del migrante come problema al migrante come patrimonio umano culturale agire quotidianamente i valori primari della nostra amata costituzione questa la naturale vocazione no Gloria scusami cara fermati pure sulla poesia ok i valori della nostra amata costituzione questa la naturale vocazione della comunità educante al di là di percentuali inapplicabili sul nostro territorio multiculturale ascoltiamole e ancora le parole ponte di Karim a Venone un mio alunno con background migratorio ma cittadino italiano e questo mi emoziona molto proprio dal 16 maggio del 2022 mio padre la terza slide Gloria perdonami mio padre desiderava molto la cittadinanza il nostro affetto per l'Italia era una grande speranza continuava a dire io aspetto io aspetto alla fine l'abbiamo ottenuta perché per dieci anni abbiamo mostrato rispetto io sono felice di aver ottenuto questo enorme premio sento di essere un cittadino di una terra limpida sento di essere un nuovo segno di questa terra sento di essere un altro filo d'erba di questa terra sento di essere una nuova onda che bagna questa amabile terra da quel giorno penso di essere entrato in una nuova vita e attraverso un sospiro la mia preoccupazione è sparita certo è incredibile l'utilizzo di tante anafore rime da un alunno migrante allora dicevamo ogni luogo quindi è un campo nel quale fare esperienza dell'altro un'aula di una scuola fatta di molte voci ricordando che nessuno come spesso si pensa è tabula rasa ma ridefinisce e trasforma lo spazio in un'avventura dell'ascolto e dello sguardo la poesia di Karim Avenone contro la seduttività delle proposte delle classi dominanti ideali politici di dignità qui sto citando Serughetti nelle pagine 10-13 ideali politici di dignità umane di libertà individuale che ahimè si devono leggere come realizzazione di successo personale individualismo competizione contro cooperazione condita con una politicamente corretta sorta di volontariato allora la poesia di Karim che si è dato il nome di Avenone va contro quella manipolazione delle parole sempre Serughetti che vede i cittadini come ingranaggi di un grande meccanismo sociale formato dalla somma di interessi individuali e convergenti si puoi rimanere qui sulle parole non ti preoccupare quindi il soggetto è l'approdo di quella analisi perpetrata già da Foucault dove il potere si veicola e si diffonda attraverso gli individui che sono portatori di potere e un loro effetto allora il soggetto la Serughetti punta tra i tanti suoi temi affrontati proprio il soggetto allora può essere letto sappiamo nel duplice senso di soggetto oggetto a qualcun altro attraverso un controllo ricordiamoci appunto i vari dispositivi di potere già annunciati da Foucault ma soggetto come colui che agisce attraverso la coscienza la conoscenza di sé attraverso l'altro allora un soggetto che prende la parola affrancandosi dalla visione della società che lo ha costruito ma allora i nostri alunni sono soggetti dell'azione educativa o oggetti e le slide dalla slide 4 vi presento quindi ulteriormente un lavoro dei nostri alunni noi scegliamo di essere punti questa slide appunto è la la prima la quarta i ragazzi appunto avevamo fatto questo lavoro interrogandoci partendo come diceva prima Roberto dalla dalla storia quindi dalla propaganda fascista a quella che è la propaganda oggi questi lavori che propongo sono svolti in una decina negli ultimi dieci anni e come vedete appunto l'idea è quella di continuare la ritesti in questo caso era la comunicazione multimediale dove vedete che c'è una costruzione una narrazione dell'altro come nemico allora dopo questo quindi grazie Gloria andiamo avanti abbiamo individuato allora che cosa la BC della paura e quindi il muro perché tutto il lavoro era appunto su muro e ponti e trovate appunto espresse quelle che i ragazzi hanno evidenziato essere le parole muro ma al muro noi che cosa opponiamo opponiamo il ponte i ponti le parole ponte quindi hanno e abbiamo rappresentato appunto un ponte nel quale vengono invece l'abbiamo chiamato appunto la BC della cittadinanza agita le parole ponte e quindi mettersi nei panni dell'altro nelle slide che seguono ma Gloria stringimi tu il tempo chiaramente sono tutte poi frasi estrapolate capite bene in un magma di riflessioni di indicazioni e allora che cosa prima si parlava è vero lo Stato quindi rispetto a quello che i nostri invece ragazzi e ragazze su cui riflettono e dicono viene letto allora come un costrutto culturale in cui la governamentalità attraversa tutta la società o quella che viene costruita come società quindi queste riflessioni allora ci conducono è un'altra parola chiave nel libro di Serughetti a capire se noi ci allineiamo aderiamo alla norma no? probabilmente sì e non ce ne accorgiamo allora se è vero come scrive Foucault che là dove c'è potere c'è resistenza qual è l'utilizzo allora delle analisi di Serughetti sulla situazione attuale ci aiutano a produrre nuove forme di soggettività allora questa alternativa oggi più di ieri è necessaria e quindi contro questa pervasività del potere di questa di costruzione di una società fatta da individui qual è il ruolo della scuola oggi? Cosa rimane dell'istruzione pubblica che sempre citando Serughetti nel novecento era riconosciuta come componente essenziale della costruzione di una cultura comune ma anche il primo luogo di prevenzione e contrasto alle disuguaglianze? ecco dialogare con il libro di Serughetti non conduce a risposte definitive ma sappiamo che i buoni maestri più che dare risposte suggeriscono domande anzi la sua attualità è proprio nel cercare nuove prospettive quindi andare oltre allora andare oltre significa sperimentare vivere sulla nostra pelle quotidianamente la pedagogia emancipante che ci insegna a riappioperarci della nostra capacità di emozionarci e di tendere all'utopia del donare genuino pensare agli altri che come scrive Amber come resistendo all'omologazione consumistica disumanizzante quindi vivere la scuola come laboratorio culturale questo contributo vuole proprio in minissima parte testimoniare l'attività culturale degli studenti e delle studentesse e soprattutto non soprattutto ma sicuramente degli alunni e degli alunni migranti la peculiarità della scuola che resiste consiste nella sua umana capacità di vivere il dubbio di indagare rappresentazioni operando nuove inferenze e infinite possibilità di fuga e in divenire si parlava prima con l'altra parola chiave l'imperfezionalità appunto non c'è nulla di perfezione non c'è nulla di perfezionato ma solo il divenire può far sfuggire alle logiche dominanti e quindi possiamo andare poi alla slide 13 per favore riporto ulteriormente dalla 13 alla 16 un'esperienza che è documentata sempre nella rivista insegnare dove appunto ho il privilegio di avere la rubrica di curare la rubrica appunti oltre il brusio è un esempio allora 12 per favore andiamo a 13 scusami Gloria questa è la propaganda scusate questa era la propaganda realizzata poi dai ragazzi ecco qua il viaggio di tutte non andrà ok con gentilezza allora un giorno come tanti entra nelle nostre classi appunto fataglia eravamo già in terza media chiaramente non conosceva la nostra lingua con gentilezza i suoi occhi caputano però suoni familiari un'opportunità fatiga rappresenta per noi un'opportunità spesso siamo pensati a dire che la scuola no no da L2 L1 eccetera eccetera no è un'opportunità per noi per dimostrare ancora di più il mio lavoro impermeato sulla poesia sulla scrittura creativa vada al di là di ogni frontiera linguistica allora che cosa facciamo e come facciamo in modo che svolgendo vabbè Ungaretti ma per me Ungaretti insomma il maestro un Pasolini per tante cose come far arrivare a lei per esempio la poesia veglia abbiamo pensato che avevamo provato con un'altra ma era più difficile con l'aiuto di Bashir che invece era un alunno migrante ma già appunto aveva fatto con noi tre anni insomma era al terzo anno proviamo a tradurre appunto la poesia fratelli ma era più difficile veglia possiamo andare avanti allora che cosa succede abbiamo cercato qui c'è Rosanna Angelilli e tanto abbiamo lavorato sulla zona di intercomprensione quindi chiaramente per noi è normale che esista la parola veglia sappiamo a cosa faccia riferimento così come tante altre parole che diamo per ovvie abbiamo cercato invece di quella zona e l'idea che muoveva questa parola e quindi attraverso una una perifrasi abbiamo scoperto che per esempio la parola veglia in Bangla non esiste no non ha una tradizione letterale e quindi abbiamo cercato no una appunto una zona di contatto un ponte e il risultato è perdonate la pronuncia opecca che appunto è aspettare dalla notta al giorno e cora che significa fare l'una senza l'altra non esprimerebbero il significato in italiano grazie Gloria andiamo avanti e abbiamo ecco qui tradotto cioè Fatia ha tradotto in Bangla la poesia veglia di Ungaretti andiamo avanti per favore quindi e questa è la sua commento finale le poesie chiaramente la sua scrittura le poesie di Giuseppe Ungaretti mi ha piaciuto tantissimo le poesie mi ha toccato il cuore mi hanno dato tante tantissime emozioni poesia molto bella allora cosa c'è di più la comprensione no cioè toccato il cuore e emozioni la poesia di Giuseppe Ungaretti è arrivata a Fatia quindi il muro del linguaggio no è stato saltato attraverso appunto le parole le parole quindi io Gloria credo che manchi pochissimo vado velocemente vado velocemente alla conclusione e poi andiamo solo dopo con l'ultima slide quindi mi piace avevo citato nel contributo che insomma che quindi per carità ho tagliato in più parti a Padurai la Padurai che di modernità in polvere quando appunto dice che nel mondo in cui viviamo in cui la modernità è andata in polvere una volta per tutte che cosa scrive però bisogna e quindi abbiamo fatto nostra trovare quell'etica della possibilità che significa accogliere una pluralità di visioni della buona vita ecco questo ci affranca dalle nuove forme di egemonia culturale e chiudo con un pensiero chiaramente al Cidi e a Tullio De Mauro citando cancellati chiaramente con una L dalla dottrina sicuramente lo conosciamo tutti del 1975 in cui De Mauro scrive quando la scuola è scuola democratica quando gli alunni fabbricano una lingua personale libera non soggetta a modelli strumenti di liberazione anziché di soggezione e quindi io ringrazio tutti gli alunni e le alunne per il loro essere in questo viaggio della conoscenza promotori di senso perché loro si rivolgono a tutti e tutte in quanto persone mondi e con loro sicuramente costruiamo una scuola per la cittadinanza animata da soggetti portatori di diritti e responsabilità e quindi se puoi Gloria all'ultima slide perché idealmente la indirizziamo loro la indirizzano e la indirizziamo tutti a te costruttore di muri siamo parte di un nuovo e più umano futuro noi giovani adulti stiamo migrando per fortuna il nostro barcone è ancora intatto dialogando ci si può liberare di qualunque problema affrontiamo un percorso insieme e soprattutto stiamo migrando dentro noi stessi abbiamo lavorato con la scrittura il disegno e con il cuore ci mettiamo nei panni degli altri e abbiamo la possibilità di esprimere le nostre idee e i nostri pensieri adoriamo quello che si fa in questa scuola perché ti strappa un sorriso e ti fa riflettere molto e secondo noi è molto importante perché non ci sarebbe piaciuto stare in una scuola dove ti annoi e non rifletti su quello che succede nel mondo allora la società esiste il titolo del contributo se la scuola resiste per difendere la società bisogna essere follemente umani nel reimmaginare il pianeta per chiudere parafrasando anche quello che diceva prima Nosse e Rughetti grazie grazie Antonella è chiarissimo nel tuo contributo come il sapere intanto la lingua è uno strumento di esistenza non serve infatti la lingua spesso viene insegnata a chi non è nato in Italia perché serve a qualcosa perché serve al lavoro perché serve in realtà la lingua è strumento di esistenza chiaramente e quando sono più piccoli gli studenti e le studentesse diventa strumento per costruire proprio un'unità della persona un'integrità della persona in cambiamento in divenire quindi diciamo così noi usiamo una parola nel nostro didattichese corrente che è inclusione allora va anche questa va risemantizzata perché includere vuol dire semplicemente educare significa semplicemente istruire dare le parole a tutti questa è una cosa che il Cidi conosce benissimo che ha nella sua struttura cioè dare tutte le parole a tutti e la parola stessa comprensione diciamo ha in sé l'idea di una competenza tecnica linguistica ma anche di una competenza umana il capirsi il comprendersi quindi diciamo l'esperienza di Antonella che lavora con persone vulnerabili vulnerabili dal punto di vista però diciamo da fuori nessuno è normale e noi insomma in qualche modo abbiamo la stessa prospettiva vulnerabile per chi in base a che cosa qual è il parametro Antonella che lavora da tanto tempo con persone straniere con alunne e alunne stranieri sa bene quanto sia importante il medium linguistico non solo per come dire affrontare le questioni della vita quotidiana ma proprio per esistere tanto per restare nel lessico di questo di questo pomeriggio io chiuderei perché siamo sono le sette e mezza e siete tanti e tante ancora presenti però mi sembra veramente che abbiamo tessuto una bellissima conversazione ringraziamo Giorgia per averci dato la sua presenza la sua generosa così disponibilità e anche per il suo pensiero che continua lei ha è uscito da poco un altro libro sulle questioni di genere che magari leggiamo e ci teniamo per un prossimo incontro il prossimo anno scolastico va bene io ringrazio naturalmente tutte e tutti in primis Marilena Ruggero e Antonella che sono state è stato tutti bravissimi avete arricchito quando io ho pensato questo incontro ho pensato proprio a questo alla cornice teorica ma anche alla vita della scuola del nostro modo di intendere la scuola della scuola democratica del Cili e quindi in questo avete dato il giusto la giusta intensità anche all'incontro ringrazio tutti tutte e tutti voi che siete stati qui con noi ringrazio Valentina che insomma spinge sempre spinge anima sempre bene grazie da parte mia davvero splendidi gli interventi hanno arricchito moltissimo diciamo il dialogo tra il mondo della scuola e i contenuti del mio libro che avete letto così attentamente veramente ne sono ne sono lusingata e va bene scrivete il libro la scuola esiste ho capito che è un po' è un po' il titolo di questa di questa iniziativa di questo nostro incontro quindi diciamo mi pare mi pare che ce ne sia più che bisogno ecco di ricordare che non tutto è perduto anzi no si può fare si può fare intanto c'è la rivista e la rivista è scritta letta già lì c'è un terreno collettivo di elaborazione di condivisione va bene vi ringrazio grazie a tutti a presto ci sentiamo grazie a tutti